Ciao a BetTest.it, nel momento in cui purtroppo ricomincia lo scontro eterno tra israeliani e palestinesi, nel momento in cui c'è stato un ricominciare a combattersi e per uno stupido occidentale come me è sempre un momento di grande tristezza perché è qualcosa che vediamo andare avanti da sempre, sembra che sia un conflitto senza uscita. Arriva un film, arriva una vera e propria bomba nelle nostre sale ancora su israeliani e palestinesi, ancora su un conflitto ma su una possibile pace, attraverso che cosa? Attraverso il prodotto audiovisivo, attraverso il racconto cinematografico, no televisivo, attraverso una soppopera, bomba, arriva una bomba e sei una bomba, bomba usata come metafora di apprezzamento che però va bene perché ricorda anche un qualcosa di militare, è proprio una parola bomba che viene usata da una scereggiatrice dentro una soppopera che ha a che fare appunto con i militari, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutti i pazzi a Tel Aviv, Tel Aviv on Fire, presentato titolo originale, presentato inglese, presentato in competizione a Dentro Orizzonti a Venezia 2018, vinse miglior attore protagonista ed è stato uno dei film più amati a Venezia l'anno scorso, Orizzonti è la competizione più importante dopo il concorso. Tutti i pazzi a Tel Aviv di Sam e Zoabi esce e bomba, sei una bomba, riflettiamo su questa metafora perché ci troviamo dentro una soppopera, a lei così all'inizio, mi ha ricordato molto il caimano di Nanni Moritti, l'inizio del caimano di Nanni Moritti, siamo già dentro una finzione con una donna, come nel caimano, lei è interpretata da Margherita Bui che ha quasi, anzi che ha un ruolo di agente speciale, di spia, lì Margherita Bui faceva fuori tutti i maoisti perché s'era infiltrato in mezzo a loro e li ammazzava tutti se stava a sposare con Paolo Sorrentino e a un certo punto con Paolo Mirzic che li sposava, insomma quell'inizio di Moretti che poi usava proprio il linguaggio degli Zoom, faceva un po' Quentin Tarantino, citava un cinema anni 70, bello anche, bello anche, come posso dire, totalmente anticomunista con appunto Margherita Bui che uccideva tutti questi bastardi comunisti perché era un agente segreto. Qui abbiamo un inizio molto simile, c'è una donna, è meno action, ci sono meno Zoom, ma c'è una donna che mellicruamente si infila come Matari, è una spia in mezzo agli israeliani, siamo alla fine degli anni 60, la guerra e lei è una spia, è una spia perché? Perché ha un grande amore con il suo capo palestinese e però si deve infilare là in mezzo e chissà che cosa fare. L'inizio ricorda molto il Caimano, donna in mezzo a nemici che riesce a infiltrarsi e poi tende ad ammazzarli tutti, poi usciamo fuori, è una soppopera, è una soppopera che si gira a ramalla, c'è un indolente, un pigro, anche un coglione, lo possiamo dire, c'è un coglione, Salam, che arriva da Gerusalemme Est, se fasti i 18 chilometri per arrivare in Cisgiordania, c'ha bisogno che lo zio gli dia i soldi perché Ken Chan non c'ha mai una lira, è lì, sta appeso. Caiz Nasif lo interpreta benissimo e lui il protagonista del nostro film va lì e vede sta soppopera, è quella che vedevamo all'inizio, sta soppopera con lo zio tutto contento che la produce, che ricorda, lo zio che ricorda, lo zio che dice che gli accordi di Oslo sono stati un disastro, una menzogna e lui, questo zio, ricorda, ricorda, ricorda la guerra di quando era giovane e questa soppopera che sostanzialmente lui produce, ma lui è un produttore vecchio stile, è fantastico, uno di questi anche un po' come il Luca Barbareschi di Dolce Roma che comunque è anche autore, poi fa affare agli altri, però insomma lui la scintilla iniziale era da lui e il nipote va lì, gli chiede i soldi, il nipote è un idiota, un idiota, non riesce a parlare con le donne, non riesce ad amare, non riesce a vivere, è come un sonnambulo parcheggia nel posto degli handicappati, dei portatori di handicap come faceva Steve Jobs, che è una delle cose che mi divertiva di più, i gnobili, che faceva lo Steve Jobs di Ashton Kutcher nel film su Steve Jobs con Ashton Kutcher, che parcheggia, arrivava all'Apple e parcheggiava sempre nel parcheggio dei portatori di handicap, e anche lui fa così, è uno di questi appunto che sembra che non gli freghi niente ed è un po' così, però arrivare vicino al set di questa soppopera, non lo so, lo vediamo all'improvviso quasi, quasi, quasi cominciare, a, e allora ecco il film di Sam e Zoabi, lui cerca attraverso la commedia di mettere in moto un meccanismo di collaborazione, perché poi questo scemotto che in un modo o nell'altro entra nella produzione della grande soppopera che viene vista da tutti, anche dagli israeliani, nel momento in cui sta per tornare a Gerusalemme Est, ma che cosa ci faceva in Cisgiordania? C'è un posto di blocco israeliano e un ufficiale entrerà israeliano, entrerà in relazione con lui, perché lui ha lo script da soppopera e quello fa, allora aspetta che, e allora ecco che è un momento molto Woody Alleniano, sarà che non se la passa bene il nostro ragazzo e allora noi ancora di più ci stengiamo attorno a lui. Ho visto Woody Allen, ho visto Provaci Ancora Sam nel rapporto tra Detective Pikachu e il nativo digitale dell'agente delle rassicurazioni che va bene, è una cosa agghiacciante e sembra che gli debba spiegare pure come andà a baciare le ragazze, come faceva Humphrey Bogart con Woody Allen in Provaci Ancora Sam, ed è un momento ancora alleniano, non solo perché si cita il mistero del falco che veniva citato in Provaci Ancora Sam, Woody Allen gli chiedeva ma come hai fatto a lasciare Mary Heston in quel film, e qui viene citato quel momento famoso proprio di Sam Spade da Dashiell Hammett, nel film di John Huston, che è Humphrey Bogart che lascia Mary Heston, per alcuni maschietti è l'emblema del fatto che tu proprio sei indipendente dall'amore, dal sesso, tu sei un uomo futuro, il vero duro è quello che lascia pure, perché te sei comportata male così, e io lo spiegava Humphrey Bogart a Woody Allen che stava lì, diceva ma come non hai sofferto, qui c'è la stessa cosa e poi qui c'è anche pallottole su Broadway, cioè l'incontro tra John Cusack e Chet Spalmintieri e l'idea di questo gangster che comincia a appassionarsi alla drammaturgia, laddove avvicina a sé un drammaturgo che è spento, e quel film magnifico di Woody Allen, beh insomma l'ho rivisto tanto in tutti i pazzi a Tel Aviv, perché forse ci sarà qualcuno fuori dall'ambiente artistico della soppopera dello zio di Salam, che forse comincerà a ingrifarsi per la scrittura anche se fa un altro mestiere, ed eccolo lì questo buffo film che ha un ritmo ragazzi molto placido, non aspettatevi Billy Wilder, non aspettatevi nemmeno Woody Allen, è un ritmo molto lento, se vi piacerà adagiarvi che forse in questo momento di tensione ancora israelo-palestinese è ancora più utile da avere per noi, perché usciamo dai DG, usciamo questi missili, usciamo da Striscia di Gaza, usciamo dalla guerra, e invece vediamo questi che si incontrano e parlano, ed è anche un film sulle diverse generazioni, avrei voluto che fosse più forte nel momento in cui entra questo conflitto generazionale, cioè che cos'è per te la guerra degli israeliani, soprattutto per lo zio di Salam, e che cos'è per me, cioè che cos'è stata questa guerra per la mia generazione, che cos'è stata questa guerra per la tua generazione, tu l'hai idealizzata, l'hai portata dentro il mistero del falco e dentro questa soppopera, con lei, con questa spia che forse era una donna che amavi, zio, io invece, io chi sono? Io che sono stato un sonnambulo, io che non riuscivo a parlare alle mie donne palestinesi, io che non sapevo niente, io che ero un ignorante, io che andavo a parcheggiare al posto dei portatori di handicap, e invece è come se lui finalmente cominciasse ad avere un suo punto di vista su questa cosa attraverso tutta questa commedia degli equivoci e del fare, è una specie di effetto notte soppopera, come si è stati fatti così, anche sulle soppopere, che devo dire che ha un senso molto profondo, anche perché è un'occasione veramente attraverso, è sempre un'escamotage, è sempre una scusa freudiana, è sempre una scusa, è sempre un'escamotage, io non sto parlando della guerra, io metto in scena una scena e poi, allora è come se attraverso questo escamotage psicoanalitico ognuno di loro riuscisse finalmente a far tirare fuori quello che pensa di questo conflitto, che è così eterno ed è così quotidiano nella vita di lui, nella vita del militare israeliano, non è la vita di tutti, che così non se ne parla più, e allora è attraverso la soppopera che se ne parla, in un modo trasversale, devo dire appunto, il ritmo è molto lento, lasciatevi andare e vedete che in questo momento di ennesima guerra arriva un film di pace, però molto scoppiettante, a suo modo, placidamente scoppiettante. Ciao Betteist, subscribe, ma quanto è bravo Kaisna Schiff, che avevo già adorato in Paradise Now e ha vinto il miglior attore a Venezia per Orizzonti, è lui, è lui questo protagonista indolente che però cresce all'interno del film. Ciao Betteist, subscribe, bravo questo regista, bravo Sam e Zoabi, vi vedo, ciao! Ciao Betteist, ciao!